ciao a tutti ragazzi benvenuti sul mio canale io sono davide oggi andiamo a fare una nuova tipologia di video quindi incomincerò a fare una rubrica abbastanza spesso che riguarderà il day trading questo cosa significa che non andrò a dare dei consigli per fare dei trade ma andrò a mostrare delle possibilità di trading che io prendo in considerazione e che potreste ipoteticamente prendere in considerazione anche voi andando logicamente poi a fare le vostre dovute valutazioni quindi questi non sono consigli finanziari come al solito partiamo da bitcoin e normalmente andrò a fare una cripto alla volta ed oggi quindi partiamo proprio da bitcoin come vedete bitcoin sta continuando a calare siamo arrivati sotto ai 34 mila dollari scusate 35 mila dollari siamo a 34 mila 600 dollari abbiamo dei volumi che comunque continuano ad essere abbastanza bearish purtroppo anche se la seconda candela la candela di oggi dei volumi è rientrata all'incirca nella media ma continua ad essere abbastanza alta poi potrebbe esserci quest'altro livello e poi guardate quest'altro che è quello della media scarsa andiamo a guardare inoltre lo stocastico rsi e come vedete ancora non è abbastanza scarico non ci siamo ancora avvicinati allo zero quindi dal mio punto di vista abbiamo ancora possibilità di scendere in più vediamo anche il l'rsi quello classico e vediamo subito che anche in questo caso l'rsi si sta andando a fermare verso i 20 in effetti sta per fare un piccolo pullback ma dal mio punto di vista potrebbe ancora scendere andando a interessare la zona attorno a i 14 15 sullo stocastico logicamente tutto ciò è dovuto a diverse notizie che hanno purtroppo dato una brutta svolta al mercato delle cripto come tutto il restante mercato abbiamo inoltre la notizia della russia che ha bannato miner e anzi ha fatto una proposta di ban per tutti i miner e soprattutto per quanto riguarda il trading di cripto volute ma ad oggi non abbiamo certezza intanto hanno incominciato a vendere sicuramente i miner per quanto riguarda bitcoin e vedremo come andrà a finire noi abbiamo inoltre due livelli di prezzo da tenere presente il livello di prezzo dei 34 mila 500 dollari 34 mila 500 dollari che è dato una stupidaggine dei 34 mila dollari circa è così 34 mila dollari ossia questo qui che non è un vero e proprio livello di prezzo con un'importanza nel grossa nel passato ma è stato un top in questo caso una quindi un'altra resistenza in questo caso un supporto in questa situazione dopodiché andando a guardare in questo caso abbiamo avuto diversi supporti dopodiché è diventata una media di prezzo quindi è possibile che questo possa essere o un bottom oppure possa addirittura fare una candela con uno spike che vada a toccare fino ai 30k che è il livello di prezzo dal mio punto di vista che toccheremo in questa fase purtroppo di downtrend i 30k che diventeranno molto probabilmente il nostro floor per il prossimo anno quindi dal 2022 fino al 2024 non abbiamo una certezza di ripresa in quest'anno anche se molti dicono che ci sarà ma dal mio punto di vista a meno che non cambierà la gli aspetti macroeconomici per quanto riguarda quindi il sentimento sul sui mercati in generale e la paura del covid e quindi che ci possa essere ancora un lockdown per quanto riguarda l'italia o comunque una perdita di controvalore per quanto riguarda l'inflazione del dollare e tanto altro dal mio punto di vista non mi sento ancora confident nel dire che siamo arrivati a un punto di stallo quindi potrebbe addirittura andare ancora più sotto dei 30k andando a toccare addirittura il vecchio ultimai dei 20k ma questo è logicamente è pura supposizione intanto guardiamo che comunque a questo livello vedete qui c'è stata una resistenza in questo caso è un'altra resistenza in questo caso di che è stata rotta in maniera importante andando a creare questa nuova figura abbiamo comunque come vedete dei nuovi massimi e quindi questi nuovi massimi dal mio punto di vista reggeranno almeno per un anno poi potrebbe esserci un piccolo spike di ripresa ma non sarà ancora questo dal mio punto di vista l'anno che ci mostrerà i 100k di controvalore per quanto riguarda bitcoin quindi cosa fare nel day trading andiamo subito a vedere in un time frame ancora ancora maggiore quindi queste 4k vediamo che totalmente in 4 ore totalmente in rosso andiamo a vedere sull'orario e vediamo che ancora non c'è una ripresa andiamo a vedere sul 15 minuti e mostra totalmente in dump quindi dal mio punto di vista potremmo andare a creare una operazione in short che vada a mantenere questi livelli di prezzo quindi andando ad uscire a questo livello e andando a prendere il un punto di riferimento all'incirca sui 30k se volete avere un 1 a 2 potere anche metterlo sotto il bottom di quest'altro livello ora questa è un'operazione che si può fare logicamente anche in leva sicuramente state molto attenti abbiamo un 9% di anzi un circa 10% di drawdown mentre un gain del 13% dal mio punto di vista se doveste fare queste operazioni con la leva andrei a effettuare un'operazione di massimo 1 barra 2 in percentuale con una leva logicamente a 5 ma questo è un punto di vista anche perché poi bisogna avere un money management molto importante e quindi attenzione a tutto ciò che fate per questo video è tutto io vi ringrazio per aver visto il video vi ricordo di mettere mi piace commentare qui sotto iscrivervi al canale attivare la campina per rimanere sempre a giornale su tutti i video che vado a caricare andare a visite il mio account instagram e tiktok davidevasco85 e se volete contattarmi su telegram davide in età bassa vasco per il questo video di trading è tutto grazie per aver visto il video e al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti